nella gente il doc doc qua presente regaia di fanno sempre male fanno sempre male io per l'amore del cielo io rispetto le decisioni di re tiago motta e dello chef giuntoli non dico niente purtroppo chiesa non faceva più parte del progetto e rispetto rispetto però fa male fa male fa molto male rega fa male perché sai quando ti affezioni chicco mio mi ha fatto godere e questo video è un video di gratitudine volevo dirti grazie grazie perché era un bel po che non mi innamorava così tanto di un giocatore grazie per non averci tradito e non essere andato all'inter intervisti la maglia di chiesa la mettete con quella di bala modric messi ma grazie davvero per per tutto quello che hai fatto buona fortuna buon viaggio so che ci mangeremo le mani lo so ripeto io mi fido però abbiamo dato via potenzialmente uno dei giocatori per me per me e parlo da persone molto amante di chiesa per me però se esplode uno dei giocatori più forti del mondo lo so raga lo so lo so sto dicendo delle cazzate capisco però l'amore che ho per chicco mio è troppo grande mi dispiace davvero tanto però va bene ci fidiamo io ti auguro buon viaggio ti guarderò di brutto da oggi in premio se ti fa liverpool senza se e senza ma davvero chicco buon viaggio buon viaggio anche se fa male fa male amico mio ti voglio bene chicco sempre nel mio cuore sempre nel mio cuore un bacione e adesso aspettiamo sancio l'erede del 7 grazie